cari amici di mille un'avventura torniamo ad occuparci di motori tridimensionali per creare videogiochi in particolare di unreal perché come tutti i mesi anche questo mese epic games ci ha regalato una serie di assets che andremo a vedere e di uno di questi vedremo anche all'opera all'interno della unreal engine 4 per il momento ancora 4 andiamo a vedere all'opera uno di questi assets ci sono tanti tutti i mesi ci sono tanti di questi modelli tridimensionali texture e cose di questo genere che vengono regalate e sono questi 5 per questo mese prima però vediamo questo realistic starter vfx pack volume 2 che è una collezione di vari effetti fumo esplosioni acqua e così via sempre qualcosa che ha a che fare col fuoco e con l'acqua ci sono anche questi pesci che possono far falle qui che possono creare atmosfere particolari questo è completamente gratuito e conviene quindi utilizzarlo visto che sono effetti abbastanza realistici però appunto come tutti i mesi anche questo mese ci sono cinque assets gratuiti c'è questa che riguarda una bicicletta però in realtà più biciclette perché ci sono varie animazioni che possono essere associate alla bicicletta appunto e si potrebbe magari immaginare di creare un gioco di corse come cycle manager per esempio ci sono queste animazioni la bicicletta mi sembra un po' piccola ma forse il modello che è troppo grande perciò è interessante particolare poi ci sono questi ponti ponti che sono di vario genere a una campata con più campate vedete ci sono varie situazioni possono essere utili questi ponti per ambientare che so un c'è un fiume sopra ci mettiamo uno di questi ponti comunque ponti moderni poi c'è questo questa serie di tavoli in un ristorante molto belli molto fotorealistici tutti quanti ci sono anche tutti i materiali con il blueprint poi c'è questa mini mappa del journeyman e perciò può essere utile le mini mappe in vari tipi di giochi possono essere facilmente utilizzate e sono utili appunto ma andiamo a vedere greenwood fantasy village questo lo andiamo proprio a vedere e presenta sia ambientazioni di giorno che notturne e lo andiamo a vedere direttamente nell'unreal engine 4 che mi pare eccolo qui sia in questa questa schermata ecco vedete è l'unreal engine 4 non è ancora il 5 che è ancora in early access però insomma è sempre molto bello da vedere e notate che in questo tipo di assets ci sono tutti questi alberi queste texture che rappresentano dei dei sentieri poi ci sono queste case quindi è tutta una cosa molto fumettosa come come impostazione e c'è anche questo fiume animato però insomma è caratteristico e quindi potremmo in effetti avere necessità di utilizzarlo nei nostri giochi questa è la versione diurna qui invece c'è la versione notturna mi sembra vediamo ecco questa è la versione notturna e vedete le case con le finestre illuminate poi ci sono le farfalline che volano e ci sono i fuochi con le luci le point light che illuminano l'ambiente circostante perciò vedete un asset notevole per vederlo all'opera ancora meglio secondo me si può combinare con questo top down starter kit che era stato regalato qualche mese fa è importante non perdersi tutti questi regali perché rendono possibile creare dei giochi molto semplicemente con la tecnica dell'asset flip cioè si vanno a sfruttare degli assets già pronti e vedete anche questo è molto fumettoso come impostazione ci sono delle cascate degli alberi e andiamo all'inizio mi pare che l'inizio sia qua in fondo dove ci dovrebbe essere il personaggio che si muove che comanda il giocatore e andiamo a posizionare alcuni degli oggetti dell'altro dell'altro pacchetto e andiamo a trasportare qui quindi andiamo a prendere le mesh e vedete ci sono dei barili ci sono vari tipi di oggetti ci sono dei cespugli ecco andiamo a prendere le casette ne mettiamo una qui poi andiamo un po' più perfetta qui ci mettiamo un'altra casetta quella azzurra in questa posizione qui ci mettiamo quella rossa la mettiamo qui e poi vedo che c'è anche un faro lo mettiamo qui dietro è enorme bisogna vedere come come ci sta e poi ci sono degli alberi mi sembra di aver visto proviamo a vedere se si abbinano con questi altri alberi sembra siano un po' diversi però vediamo ci mettiamo anche questi e poi qui c'è un cartello una serie di cartelli che danno le indicazioni ci mettiamo anche un pozzo qua in mezzo in questa posizione bene andiamo a vedere se questi modelli si abbinano a questo ambiente per combinare tutti questi modelli in un'unica struttura ecco qui la nostra eroina che vedete si può muovere c'è questo fuoco si sente anche l'audio che forse un po' esagerato scusate lo abbasso un attimo forse adesso andrà ecco dovrebbe andare meglio sempre molto alto lo abbasso ancora un po' più o meno dovrebbe andare bene ecco vedete questi alberi qui intorno sono alberi del pacchetto starter kit top down starter kit questo edificio invece che vedete qui fa parte dell'altro che abbiamo appena visto e che è regalato questo mese anche questo pozzo è regalato questo mese qui c'è l'altra casa quella col tetto rosso e qui la casa col tetto blu com'è che si fa a girarsi qua così e questo albero che vedete qua è un albero io devo abbassare ancora perché mi dà tantissimo fastidio questo albero è del pacchetto gratuito di questo mese questi altri invece sono pacchetti alberi del pacchetto che avevano regalato tempo fa come vi dicevo è importante non farseli scappare proprio perché passato il mese non saranno più gratuiti anche se non avete intenzione di utilizzare l'unreal engine magari un giorno vi verrà voglia di utilizzarlo e non avrete tanti assets da utilizzare qui possiamo penso attaccare no non ci riesco ecco si possono attaccare queste non mi ricordo come si chiamano comunque andiamo avanti ci fa fare tutto il giro non so perché devo aver bloccato il passaggio e non riusciamo a vedere eccolo lì sta succedendo qualcosa di strano ecco è riuscito a passare vedete qui c'è il faro e possiamo passargli non possiamo passargli intorno perché ho bloccato con questi alberi ho bloccato il passaggio e il personaggio non riesce a passare comunque abbiamo visto che in effetti ci sono tanti assets che pur facendo parte di pacchetti diversi possono essere messi assieme combinati e qui vedete i cartelli con le indicazioni delle direzioni da intraprendere lì c'è il pozzo mi sembra eccolo qui il pozzo e qui gli edifici che abbiamo visto e poi ci sarebbero tanti altri oggetti che si potrebbero piazzare per creare la scena che vogliamo riprodurre all'interno della quale far muovere la nostra eroina bene mi raccomando non fatevi rubare questi assets gratuiti alla fine del mese non lo saranno più perciò approfittatene a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in uno dei prossimi video ciao a tutti